Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo rosa, che suscita la nostalgia per un paradiso giovanile irrimediabilmente perduto. Utilizzando la splendida cornice della costiera amalfitana, l'autore rinnova il tema della sospensione tra giovinezza e maturità, esplorando il dolore e la bellezza delle promesse infrante. La scelta di ambientare la storia a Positano aggiunge un elemento metafisico e suggestivo, offrendo al lettore una visione affascinante e malinconica di un luogo carico di memorie e significati. La trama del libro La stagione dello scrittore Marco Raio, pubblicato dalla casa editrice Bompiani, è la seguente. Per Tommaso, che ha quasi 21 anni e rifugge le sfide della sua età, Positano è un riparo avvolgente e al tempo stesso un eterno rimpianto, una maledizione. Con le sue case dai colori pastello sbiaditi dal sole, è il luogo dove ogni estate lui e i genitori Viviana e Bruno trascorrono un mese intero, fatto di riti immodificabili eppure capaci di rivelare, di anno in anno, il tempo che passa. È il mare delle grandi aspettative e delle amicizie mai nate, quello dove, anche ora che Tommaso è diventato un uomo, non ha l'audacia per sfiorare Anna Rosa, per darle un ricordo dell'agosto vissuto insieme. È, infine, il luogo da cui trovare il coraggio di congedarsi. Dopo 12 anni, la casa di nonna Tullia deve essere lasciata, liberata da oggetti e memorie, e loro non potranno più farvi ritorno. La stagione di Marco Raio è un esordio narrativo sorprendente per la sua capacità di rinnovare in noi la nostalgia di un paradiso eternamente perduto, quello della sospensione sul ciglio della giovinezza, sulla soglia di un'estate carica di promesse eppure pronta a ferirci a morte. Ed è singolare come, a più di 60 anni dal capolavoro di La Capria, ancora una volta lo splendore malinconico della costiera amalfitana sia la quinta ideale, vivissima e metafisica, scelta da un giovane scrittore per raccontarci una stagione della vita che non ritornerà. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.